Presentazione di LuxMastress, una macchina dimagrante laser 10 di Oleapos, avanguardia progettata per ridefinire il rimodellamento del corpo. Questo dispositivo innovativo utilizza una tecnologia Oleapos, avanguardia per ottenere eccezionali risultati dimagranti e modellanti. Il sistema laser 10 di si rivolge ai depositi di grasso ostinato, offrendo una soluzione completa per modellare e tonificare il corpo. Le sue caratteristiche avanzate garantiscono un trattamento preciso ed efficace, consentendo una notevole riduzione del grasso e un rassodamento della pelle. Eleva la tua spa o clinica con LuxMastress, offri ai tuoi clienti Uniapos, esperienza trasformativa nel raggiungimento dei loro obiettivi corpore. Scopri oggi il futuro della tecnologia dimagrante. Scopri oggi il futuro della tecnica con LuxMastress, offri ai tuoi clienti Uniapos, avanguardia per ottenere eccezionali risultati. Scopri oggi il futuro della tecnica con LuxMastress, offri ai tuoi clienti Uniapos, avanguardia per ottenere eccezionali risultati.